Le riprese volanti mi stanno coinvolgendo, devo dire, coinvolgendo per diversi motivi. Primo perché ci si mostra per quello che si è nelle situazioni reali, è in macchina. Quindi io per esempio adesso sto tornando da un weekend di montagna dove ho ripreso una delle mie passioni, un po' ripreso diciamo una delle mie passioni alla rafficata sportiva. Quindi questo mi fa riflettere sulla bellezza, anche sulla necessità di mostrarsi per quello che si è, con le proprie idee, nella propria vita, senza assolutamente dover necessariamente recitare. La seconda riflessione che faccio è che insomma realmente riesco a sfruttare molto del mio tempo libero, anche per comunicare con questo mezzo. Insomma, ecco, tanto più che sto riflettendo sulla possibilità di aprire un argomento di videoblog nel mio blog sulle varie tecniche di ripresa, intesa sia come possibilità di esposizione, ma anche come tipologia di video realizzabile, di clip realizzabile. E l'altra è una riflessione un po' sui luoghi dove questa cosa qui, delle riprese volanti, l'ho chiamata, può essere applicata sul trattore, sugli altri, anche in modo autoironico. Se ci riesco vi mostrerò. Ciao.